Amici del Chiosco, Autoparty Catania, appena conclusa questa partita, una partita difficilissima e abbiamo qui con noi il responsabile di quest'oggi, l'autore di una grandissima partita, Neri che quest'oggi vince contro gli Amici del Chiosco con una partita difficilissima. Sì, è stata una partita abbastanza difficile anche perché siamo stati condizionati dal fatto che loro erano senza portiere e quindi l'abbiamo presa un po' sotto tono e al fine partita rischiavamo di perderla. O perlomeno di pareggiarla perché negli ultimi minuti gli Amici del Chiosco hanno preso un palo che portava il pareggio di una partita strepitosta. Sì, è stata una partita abbastanza difficile, fino alla fine infatti come detto hanno preso il palo, potevano pareggiare però siamo stati fortunati. Il cammino di quest'autoparty Catania, dalla prossima settimana si disputerà il girone di ritorno, con quale criterio l'autoparty Catania vuole iniziare questa avventura? È stata un'annata diciamo di alti e bassi, fra vittorie, sconfitte, pareggi, speriamo che nel girone di ritorno arrivino solo vittorie. In bocca al lupo per il proseguo del campionato, autoparty Catania, tre punti in saccoccia.